Ciao ragazze, oggi sono tornata con un nuovo video ed è un videotag che ho visto sul canale di Eleonora Eleonora Manni Ti mando un bacio, Ele, ti ho scritto nei commenti che l'avrei fatto perché mi è piaciuto molto praticamente non è niente di scambroso si chiama videotag la mia prima volta e sono varie domande per farci conoscere un pochettino meglio l'ho trovato molto carino e ho deciso di farlo anche io una cortesia se c'è un'anima buona che praticamente, prima di iniziare se c'è un'anima buona che praticamente mi spiega come funziona Google Plus perché non ho capito assolutamente niente non so come interagire con voi vedo che mi arrivano le notifiche dei commenti sotto i miei video mi scuso per il video precedente quello dei prodotti finiti che molti commenti non ho potuto rispondere perché praticamente YouTube ha aggiornato e ha fatto questa cagata che praticamente si può rispondere solo grazie a un account di Google Plus quindi qualcuno mi aiuti perché davvero non so come funziona questo social network allora inizio subito con le domande ce l'ho sul cellulare un attimo solo che mi si blocca sempre allora domande la prima domanda parli ancora con il tuo primo amore no perché insomma la storia non è finita molto bene l'ho lasciato io e purtroppo quando tu magari dici la verità in faccia alle persone non è bene apprezzata la maggior parte delle volte e quindi insomma è finita male andata a dire cose cattive sul mio conto in giro se insomma non mi è piaciuto pensavo che ero una persona diversa invece mi sbagliavo e niente quindi comunque ragazze consiglio veramente con il cuore dite sempre la verità nuda e cruda anche se è a vostro discapito però non lo so io non ho rimpianti in nessun modo non mi piace la falsità né l'ipocrisia quindi un consiglio proprio spassionato la verità è la miglior cosa secondo me allora qual è stata la tua prima bevanda alcolica la numero due allora quando ero tipo piccolina 14-15 anni all'epoca si portava tipo il Bacardi Breezer e quindi che era tipo alcolica beh non è proprio alcolica alcolica però mi ricordo che mi prendevo il Bacardi Breezer alla pesca poi 16-17 anni andava di moda la Red Bull con vodka a fragola talmente che ne ho bevute non le bevo più perché proprio l'odore mi fa schifo e mi ricordo che le prime bevande alcoliche per i ragazzi erano all'epoca queste qui poi qual è stato il tuo primo lavoro allora il mio primo lavoro lavoro tipo estivo l'ho fatto con il mio ex fidanzato andavo a fare tipo i contratti per l'Enel e per Team se non sbaglio però ho visto un pochettino com'era questa quando si tratta di fare questi lavori soprattutto per andare in giro per i contratti e via discorrendo informatevi bene come funzionano le cose perché ho visto che questo organizzatore che ci aveva dato questo lavoro non era tanto per la quale quindi io ci ho rinunciato infatti il mio ex ragazzo che ha continuato a farlo ha avuto dopo tutte le agente che gli bestemmiava a prezzo per questi contratti che lui era andato a fare quindi informatevi bene per quanto riguarda questi lavori soprattutto dei contratti Enel, Wind, Team eccetera eccetera se non è in mano un'agenzia seria rifiutate anche perché vi danno 4 soldi poi secondo che mi si blocca il telefono terza domanda ah no quarta domanda qual è stata la tua prima auto questa è bella io ho 25 anni e non ho la patente ebbene sì non ho preso la patente mi rendo conto che è qualcosa di indispensabile nella vita quindi devo per forza andare a prendere la patente ce la farò scusate se guardo perché non voglio che mi si blocchi il telefono e ci metto 3 ore quindi devo prendere la patente insomma perché è importante poi quella 5 la prima persona a cui è scritto oggi mi sono svegliata la mattina insomma mi sono svegliata e ho scritto al mio fidanzato perché oggi praticamente c'era la partita salernitana nocerina che per tutte le ragazze di Salerno si sa come è andata a finire una ciofega una cacciara praticamente e quindi preoccupata perché comunque queste cioè ci sono vari scontri in queste partite questo tipo un derby Salerno nocerina come Salerno pagani oppure Salerno avellino se roba è qua e quindi ero un po' preoccupata ho scritto al mio fidanzato come è andata tant'è vero la partita è stata vinta a stavolino per la salernitana perché non mi sto neanche a raccontare perché sinceramente non credo che vi interessi poi chi è stata la tua prima insegnante allora penso la tua prima insegnante degli elementari perché all'asilo sono andata dalle suore non lo consiglio a nessuno io a mio figlio non lo porterò mai dalle suore perché sono veramente perfide e cattive la mia prima insegnante delle elementari mi ricordo era la maestra Sabatella che insegnava tipo italiano e mi ricordo che ci dava insomma le varie insomma i vari esercizi le varie cose e niente mi ricordo questa tra tutti gli insegnanti che ho avuto alle elementari quella che mi ricordo di più era la maestra Sabatella il maestro stanco che era un po' era un maestro di matematica terribile era tipo zoppolo io solo che lo vedevo tremavo perché aveva anche dei metodi di insegnamento un po' bruschi urlava un ragazzo timido per esempio io prima ero molto timida rimanevo tipo paralizzata non sapevo che fare anche perché la matematica a me non è mai piaciuta e mi ricordo che mio padre andò a parlare a dire che non mi può terrorizzare in quel modo perché ero un po' brusco metodi un po' bruschi poi ho saltato la sesta domanda la prima persona a cui ho pensato stamattina è il mio fidanzato poi l'ottava domanda la prima volta che sei andata in aereo non sono mai andata in aereo mi piacerebbe fare un viaggio in aereo non mi è mai capitato e va bene non sono messa in aereo chi è stato il tuo primo migliore amico ti parli ancora allora il mio primo migliore amico all'elementari c'erano varie ragazzine insomma mi ci trovavo bene una era Roberta una ragazza che tuttora insomma vedo abbiamo preso due strade diverse però ci salutiamo tuttora e mi ricordo insomma i pomeriggi che veniva da me e giocavamo insieme poi Irene la vedo ogni tanto però abbiamo preso insomma strade diverse prima ci salutavamo adesso non più forse non lo so cioè abbiamo preso strade diverse non non ce la vedo di rado e poi come altre amichette strette avevo Alessandra che pure lei veniva a studiare da me insomma sia all'elementari che alle medie e mi ricordo insomma eravamo amiche poi la prima volta che ho dormito a casa di qualcuno allora la prima volta che ho dormito a casa di qualcuno è a casa della mia amica Stefania ai tempi del liceo tuttora siamo amiche ciao ste se mi vedi e niente mi ricordo che ero entusiasta di fare questi pigiama party che poi alla fine si sa non si dorme mai si parla si scherza bellissimo veramente bello poi la prima persona che ho parlato oggi sempre il mio fidanzato e anzi no a mia sorella che io mi sono sveata quando sono riuscita a dire mezza parola a dire qualcosa ho chiesto a mia sorella che stavano facendo i ragazzi perché il mio fidanzato è andato insieme al ragazzo di mia sorella quindi ho detto ma che stanno facendo sta partita mica ci sono casini e poi ho chiamato Enzo poi al matrimonio di chi si è andato per la prima volta allora il matrimonio che sono andata la prima volta è il matrimonio di due amici del mio fidanzato Daniele e Rosaria e mi ricordo che siamo andati a Potenza è stato un matrimonio molto molto carino bello ci siamo divertiti stavamo al tavolo con degli amici di Enzo quando era insomma non quando era quando era giovane perché non è vecchio insomma quando era ragazzino e frequentava questo gruppo di ragazzi davvero molto simpatici mi sono divertita molto poi poi tredicesima domanda la prima cosa che hai fatto stamattina mi sono prese il caffè e ho fumato una sigaretta poi quattordici il primo concerto a cui sei andata allora il primo concerto che sono andata era di Eros Ramazzotti a Salerno che sono andata con mia madre le amiche di mia madre e poi un altro concerto che mi rimarrà nel cuore come Eleonora è quello dei blu che io ero in pazza spegalata per i blu bellissimi e sono venuti a Salerno mi ricordo era il giorno del compleanno di mia mamma e abbiamo costretto mia sorella e mia madre di andare allo stadio il concerto era alle 9 la sera noi stavamo là alle 2 il pomeriggio il 22 giugno con un caldo boia e mia madre che ci ha accompagnato è stata una giornata molto molto bella e abbiamo visto anche bene il concerto e loro erano davvero troppo troppo belli poi 15 qual è stato il tuo primo osso rotto il mio primo osso rotto è il mignolino del piede perché praticamente mi cadde quando ero piccolina la sedia proprio sul mignolino del piede mia mamma non ci aveva fatto caso che mi era rotto poi quando sono scesa che non riuscivo nemmeno a camminare aveva visto che praticamente il mio dito era viola e quindi siamo andate a fare i raggi e praticamente mi hanno detto che il suo dito era rotto e quindi mi hanno dovuto mettere la fasciatura anche perché è una zona delicata non hanno potuto manco mettere tipo delle stecchette cose perché proprio il mignolino del piede c'è un coso tanto come fai e quindi il mio primo osso rotto è stato è stato quello il mio primo piercing è il buco al naso che io prima lo tenevo qui però mi si chiuse e insomma l'ho fatto tipo a 16-17 anni mi ricordo che io ero entusiasta di farmi questo piercing al naso quando ho visto che quasi era chiuso sono andata subito il pomeriggio a rifarmelo da quest'altra parte perché mi piace molto ci tengo la pallina insomma di metallo niente di particolare poi il primo paese straniero in cui si è andato siamo andati per due anni il mio fidanzato in Grecia lo so niente di particolare però comunque è un paese straniero molto molto bella la Grecia ha bevosti peccato però che come sono un po' arretrati sia per quanto riguarda i locali la musica l'accoglienza insomma al turismo perché comunque sono un po' arretrati cioè non c'è proprio paragone rispetto a noi insomma i locali che abbiamo noi qui per divertirci e vedi scorrendo poi 18 il primo film che ti ricordi di aver visto beh a me piacevano molto quando ero più piccola i film di Jim Carrey e Sventura l'1 e il 2 The Mask poi mi vedevo come Eleonora il fatto quel Mammo per Solerio Mammo per Solerio 2 e insomma mi piacevano molto perché mi facevano ridere ma in particolare i film di Jim Carrey io li adoravo adoravo Jim Carrey davvero e tutti i film di Jim Carrey li sapevo a memoria e poi i film con Christian De Sica pure quelli di Natale anche quando ero più piccola non capivo bene le battute però mi piaceva Christian De Sica e tuttora sono innamorata persa di Christian De Sica perché lo trovo davvero un uomo molto molto bello affascinante simpatico quindi li ho visti tutti i film di Natale e non di Christian De Sica quindi questi film qui poi la prima volta in prigione fortunatamente non sono mai stata in prigione altrimenti non sarei qui a parlare con voi perché mio padre e mia mamma mi appendevano come si dice da me poi il mio primo compagno di stanza questo non so se è inteso la mia stanza insomma di casa perché in questo caso era mia sorella adesso che abbiamo ristrutturato casa è una stanza solo per me però prima avevo la stanza in comune con mia sorella quindi poi questo qui se non sbaglio è un tag che abbiamo molti youtuber italiani hanno visto delle americane quindi lì essendoci il college e queste cose qui avevano un compagno di stanza loro io in questo caso vi dico mia sorella perché insomma se avessi un desiderio di esprimere quale sarebbe un desiderio di esprimere allora per quanto riguarda cioè adesso io spero di cioè ho un lavoro si lavoro con mio padre nel negozio però spero di trovare un lavoro nel campo della cosmetica dell'estetica del make up che sarebbe davvero cioè l'andare a lavorare contenti di quello che si fa e soprattutto insomma spero che noi giovani noi ragazzi meritiamo insomma un futuro per come stanno andando le cose in Italia io mi sto tipo deprimendo perché io sono certa che noi ragazzi non avremo un futuro non avremo una pensione e secondo me non abbiamo neanche modo di crearci una famiglia o di sposarci quindi questa è una cosa che mi fa incazzare profondamente perché poi per rubarsi i vari soldi eccetera eccetera guarda caso queste cose i soldi ci sono ma pensano a mangiarsene solo loro quindi una cosa che mi fa rovellare profondamente poi una cosa che vorresti imparare se ne avessi la possibilità una cosa che mi piacerebbe fare per esempio è fare un bel corso di inglese e imparare bene l'inglese perché sia dalle scuole elementari medie superiori ho avuto sempre degli insegnanti pessimi di inglese io per questo non so spiccicare mezza parola in inglese perché ho avuto degli insegnanti che non ci hanno fatto studiare in inglese e quindi mi piacerebbe fare un bel corso di inglese solo che costa tanto anche nel mio palazzo c'ho la Cambridge che è praticamente una scuola di inglese molto qualificata qui però comunque i corsi costano un botto e una cosa che mi piacerebbe fare è imparare l'inglese perché mi rendo conto che serve nella vita e insomma serve anche per quanto riguarda il lavoro serve comunque e poi un secondo solo che mi si è bloccato il telefono poi 23 qual è stata la prima lezione di vita che hai imparato in questo momento fai bene e vedi che te ne viene mi capita sempre questo che magari tu vuoi fare una buona azione poi ti si viene ritorta contro e quindi ho imparato a farmi i fatti miei anche se una persona ci tiene e magari sai che sta sbagliando di magari dirglielo una volta o due ma non insistere non non insistere con quello che pensi con quello che dici perché poi va a finire sempre male a me è capitato quindi il mio motto è fai bene e vedi che te ne viene poi il 24 qual è stata la prima beauty guru che hai visto allora le mie prime beauty guru mi ricordo vabbè ovviamente Clio e prima seguivo molto Honorina Paper Chocolate che però ultimamente sinceramente se ne è scesa un po' sta cadendo nel ridicolo non nego a dirlo offendetemi tutte le fan di Honorina pure qui sotto non mi interessa ma è la verità io prima la seguivo e la adoravo davvero faceva dei trucchi fantastici si tutt'ora li fa però sinceramente pure i loro vlog alcuni sono molto carini altri sinceramente non lo so io ho tante cose private che loro fanno vedere non le farei mai vedere oppure scrivere determinati titoli per attirare l'attenzione delle persone anche titoli a doppio senso sinceramente la trovo una cosa ridicola quindi non lo so se ne è sceso un poco si sta un po' atteggiando come si suol dire mentre io seguo tuttora Clio perché mi piace ha avuto tanto successo sia su youtube che in generale per quanto riguarda il suo lavoro il fatto che è una una make-up artist ha lavorato per tante per tante spilate insomma tante cose importanti e non si è mai messa su un piedistallo anzi so che invece fa un'orina io la vedo che si atteggia e si crede una super donna quando voglio dire oltre a fare video su youtube e a collaborare con varie aziende io non ho visto che l'hanno chiamata o come lavori tipo di make-up artist e vedi scorrendo cioè Clio allora che deve fare si deve mettere non lo so non mi piace come come stanno andando un pochettino le cose qui su youtube l'ultima kick è stata l'ho scritta su facebook l'altra sera che era sabato che praticamente my beauty box che io ho collaborato e tra tutte le box che ho avuto modo di provare la loro è la più meno buona diciamo la migliore è la sugar box ho avuto una collaborazione con loro e devo dire la verità fa davvero delle box molto molto carine e praticamente questo mese Nicola offre una box autografata da lei cioè sono rimasta sconvolta dico ma tu che cazzo sei che vai a mettere addirittura l'autografo cioè dico sì sì ci sono quelle ragazzine impazzite che vanno cioè per un autografo di Nicole si strapperebbero i capelli però io la trovo una trovata da parte di my beauty box ridicola cioè della serie non ci caga più nessuno non facciamo buonamenti sfruttiamo questa diciamo che ci fa l'autografo con la box e qualche stronza tipo si fa l'abbonamento oppure partecipa al game away per la nostra box cioè io rimango sconvolta sinceramente veramente sconvolta non so che cosa dire comunque niente ragazze questo è quanto questo è il video tag fatemi sapere insomma se avete un canale se l'avete fatto pure voi sono curiosa di vederlo e niente io vi mando un forte bacio scusate se mi sono prolungata più di tanto o mi sono prolungata tanto se ho detto se ho detto cose insomma magari per qualche fan di onorina che non ci stanno bene io sono i miei pensieri non sono invidiosa di niente non mi interessa io lo faccio perché è un hobby perché mi piace mi piace condividere con voi delle cose non lo faccio per lavoro certo youtube non mi darà a campare quindi io dico semplicemente quello che penso e basta e niente ragazzi ci vediamo prestissimo al prossimo video ciao belle